Far conoscere agli studenti le grandi personalità, quelli operai, commercianti, braccianti agricoli e minatori che hanno segnato una pagina della storia della Sicilia di fine ottocento, grazie al movimento dei fasci sigiliani. Un incontro dibattito che ha visto la partecipazione degli studenti delle quinte classi del liceo scientifico Alessandro Volta che nella biblioteca hanno discusso sul tema dei fasci sigiliani e il miraggio della terra, assieme al professore Giuseppe Oddo che da anni collabora con l'Istituto Gramsci di Palermo, con il quale ha pubblicato numerosi libri, tra cui il miraggio della terra nella Sicilia posteri sorgimentale. Non c'è dubbio che i fasci sigiliani, indipendentemente dalla infelice chiusura, perché furono smantellate e sciolte con la violenza e col sangue, hanno lasciato un segno e non si possono capire le vicende della storia della nostra isola e in particolare quelle delle campagne senza riferirsi ai fatti del 1893-1994. Ma per ricordare non solo gli uomini che hanno scritto questa bella pagina di storia, ma ricordare i fatti, le vicende, le situazioni, da dove si partiva, quali furono i risultati, quale potevano essere migliori se non ci fosse stato lo scioglimento e i problemi che rimasero sul tappeto, quale quella la presenza del latifondo, che sarà poi liquidato dalle lotte degli anni 40 con la legge di riforma agraria del 27 dicembre 1950. Numerosi i temi affrontati dagli studenti e dal relatore durante l'incontro dibattito. Tra queste la giustizia, l'uguaglianza sociale, la lotta alla mafia e al fascio, ricordando chi in quel periodo nella provincia anissena ha protestato contro il regime, come Agostino Lopiano, le donne di Miloc e Monsignor Giovanni Guttadauro. L'obiettivo è stato quello di far conoscere una Sicilia non rassegnata alla sua condizione di difficoltà economica. E poi quella di far conoscere anche di personaggi che fanno parte del nostro contesto storico, Agostino Lopiano, le donne di Milocca, il vescovo Guttadauria, che sicuramente hanno dato un messaggio di impegno. Il singolo di fronte ai fatti della storia può fare qualcosa, può impegnarsi. E questo è il messaggio educativo che vogliamo far passare attraverso la storia, quindi la lettura storica, ma poi l'aspetto educativo della storia come impegno civile, come impegno per una partecipazione consapevole e responsabile.